In occasione della lavagna di oggi in preparazione alla partita del Maccabi Tel Aviv delle Top 16 andiamo a vedere quella che è la loro classica transizione usata da Pini Gershon in tutte le squadre dove lui ha allenato transizione ripresa anche da molte altre squadre d'Europa. Nel dettaglio andiamo sul computer a vedere quali sono le geometrie e lo sviluppo. L'attacco di transizione viene chiamato attacco 5 e vedete come la prima situazione di pericolo sia un piccaro laterale con 5 e con 4 con le spaziature di tutti e tre i giocatori restanti esterni con tutto questo spazio per attaccare con il bloccante vedete che in questo caso sia i giocatori Fischer e Rollant hanno grande capacità di attaccare il ferro in questo caso Blu tenta molto più pericoloso fuori dai tre punti che al ruolo al canestro il passatore in questo caso era l'altro numero 5. Vedete adesso la stessa spaziatura di prima ma la continuità la palla che va in posizione di gomito fuori all'arco ai tre punti per innescare. Questo gioco di backdoor successivamente un gioco di piccaro laterale per una continuità che potrebbe andare avanti all'infinito piccaro laterale, palla in post alto, backdoor ancora piccaro laterale, ancora questo giocatore che sale per creare l'ennesimo triangolo Pini Gershon ha in mente mille geometrie quindi andiamo a vedere come continuano ad andare avanti e vedete che adesso alla fine continuando a giocare la situazione di pericolo diventa questo blocco cieco per la guardia, tre punti di Wisniewski, grandissimo tiratore piazzato. L'ultima situazione rivista molte loro partite ancora una situazione di transizione ma con due piccaro consecutivi. Adesso Blu tenta che oltre a avere pericolosità interna anche pericolosità, scusate, esterna, anche pericolosità interna attaccando i cambi ma la cosa principale è i due piccaro consecutivi. Piccaro del 4 e piccaro centrale del 5 e questa situazione sicuramente è la più pericolosa di tutte. Blu tenta fuori all'arco ai tre punti con molto spazio per tirare. Andiamo adesso a vedere sulla lavagna e soprattutto quali sono gli obiettivi chiave che noi dobbiamo cercare di togliere per cercare di negare quelle che sono le situazioni più importanti e fondamentali per il loro attacco. Ecco sulla lavagna cartacea quello che abbiamo visto sul computer. Il playmaker che prende la colsia laterale, il piccaro laterale con questo giocatore che libera l'area e questo giocatore che arrivando a transizione spesso un grande tiratore che si ferma in questa posizione. Piccaro laterale ed è il primo pericolo che abbiamo visto ma soprattutto andando avanti con il gioco vediamo che la situazione chiave sarà questa. Backdoor aggressivo per ricevere, rimpiazzo, secondo pick and roll o pick and pop per Blu tenta per tirare. In questa situazione come avete visto prima il cieco per il tiratore per avere un tiro aperto, un passaggio al backdoor, un passaggio al pick and pop. Successivamente invece rispetto a quello che avete visto prima sul video, il gioco per far tirare da 3 punti un tiratore come Blu tenta. Due blocchi consecutivi, sempre nello stesso modo andare o stare, pick and pop sul clear out per far tirare questo giocatore. Piccaro al centrale per aprire l'area con tutto questo spazio di campo per Blu tenta per pulire con il suo mortifero, tiro da 3 punti oppure mettere la palla a terra. Sappiamo che quella sarà sicuramente una chiave della nostra difesa da migliorare. Blu tenta deve essere assolutamente tolto dal sistema d'attacco.